solidarietà a vittorio brumotti brutalmente aggredito da un gruppo di spacciatori mentre documentava la situazione di degrado in cui versano alcune zone franche d'italia il messaggio di vicinanza all'inviato di striscia la notizia arriva dalla leader di fratelli d'italia giorgia meloni che su twitter ha poi aggiunto questi delinquenti non possono tenere sotto scacco le nostre città forza brumotti siamo tutti con te l'attacco è avvenuto sabato mattina a brescia in via rizzo tre spacciatori hanno aggredito la troupe che accompagnava brumotti con pugni calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone della troupe due telecamere e la bici di brumotti l'inviato era andato a brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini esasperati perché in quella zona frequentata anche da famiglie e bambini gli spacciatori fanno ormai da tempo i loro traffici indisturbati alla luce del sole si legge in una nota del tg satirico brumotti l'ha definita l'aggressione più violenta che abbia mai subito ho temuto il peggio ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d'italia dalla droga l'attacco è stato così brutale che si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno portato in caserma gli assalitori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti